Buonasera a tutti dal Tg regionale per sordi. Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato stamani in un pozzo nelle campagne di Monsummano Terme in provincia di Pistoia, località Violi. Si potrebbe trattare del figlio della donna che abita la casa adiacente ma le accertamenti proseguono. L'uomo sarebbe stato sul posto per controllare alcuni lavori in corso nella proprietà. Per l'identificazione, atteso l'intervento del nucleo, sommozzatori dei vigili del fuoco per svuotare l'acqua dal pozzo e il recupero. A notare il corpo, sono stati alcuni operai impegnati nei lavori da determinare le cause della tragedia. Al momento le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi. In Toscana arrivano oggi oltre 14.400 dosi del vaccino AstraZeneca per le categorie individuate dal piano nazionale come prioritarie solo persone di età tra 18 e 55 anni. Agli altri sarà fatto invece il vaccino Pfizer. Si tratta del personale scolastico e universitario delle forze armate, una parte delle forze di polizia perché un'altra parte invece firmerà una convenzione con la regione per poter effettuare la vaccinazione in modo autonomo. Poi dei penitenziari, compresi i detenuti, i luoghi di comunità e successivamente degli altri servizi essenziali. Con la certezza di avere a disposizione il vaccino, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha deciso di anticipare di quattro giorni la partenza della campagna vaccinale. Quindi anziché domenica 14 febbraio, si comincia da mercoledì 10 nei principali hub della Toscana. La regione, quindi a dispetto di altre che invece hanno posticipato le vaccinazioni, ha giocato d'anticipo. Situazione Covid difficile al confine tra la provincia di Arezzo, in Toscana zona gialla, e quella di Perugia, invece zona rossa, dove con una comunicazione arrivata in tarda serata di ieri, due scuole superiori di Sansepolcro, hanno attivato la didattica a distanza per gli studenti provenienti dall'Umbria, che è appunto confinante. Sono un liceo scientifico e un istituto comprensivo di più indirizzi tecnici. La decisione della DAD è stata presa dagli istituti nell'immediatezza, in attesa di indicazioni più mirate dalle autorità superiori. Sul tema è intervenuto il sindaco di Sansepolcro, chiedendo chiarimenti proprio alla regione toscana. Blackout telefonico per ragioni ancora non precisate, nel distretto 050 della zona pisana. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, precisando che il guasto è stato rilevato stamani intorno alle 7. La sala operativa del comando è isolata, compresa la ricezione delle chiamate di soccorso sul 115. Le chiamate effettuate con la rete cellulare hanno evidenziato che i numeri della rete urbana contattati sono risultate non raggiungibili. Quindi Prefettura, Carabinieri, Questura e Comuni. Le comunicazioni telefoniche nel distretto sono state effettuate solo tra numerazioni di telefonia cellulare. Invece funzionanti le linee telefoniche dei distaccamenti di Castelfranco di Sotto e di Saline di Volterra e quindi disponibili come numeri contattabili per le chiamate di soccorso. Firenze aderisce alla giornata internazionale dell'epilessia e lo fa illuminando stasera di viola il colore simbolo della malattia. Torre San Niccolò e Porta San Frediano. Di viola si tingerà anche il centro epilessia di Careggi che promuove oggi un Open Day virtuale. L'obiettivo della giornata è dare visibilità e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'epilessia per sconfiggere l'ignoranza e con essa il pregiudizio. Il traffico marittimo merci rallentato nel porto di Livorno a causa del libeccio ponente che sta soffiando da ieri sera a 35 nodi con raffiche nella notte che hanno raggiunto i 45 nodi. Regolari i collegamenti passeggeri con le isole maggiori Sardegna e Corsica come confermano dall'avvisatore marittimo del porto mentre sono saltate invece le corse con l'isola di Capraia dello Stelio Montomoli che è rimasto fermo a banchina così come la Superba che effettua il collegamento per l'isola di Gorgona. Regolari anche i collegamenti da Piombino per l'isola d'Elba. La polizia interrompe una festa di carnevale organizzata in violazione delle norme anti-Covid è accaduto la notte scorsa a Firenze in Via dei Bardi. A dare l'allarme al 113 sono stati alcuni residenti infastiditi dalla musica ad alto volume. Nella casa le agenti hanno identificato 27 persone di età fra i 20 e i 30 anni molte delle quali vestite in maschera che ballavano e conversavano senza mascherina e senza rispettare le distanze interpersonali. Tutte sono state identificate e verranno multate con sanzioni da 400 euro. L'abitazione sarebbe stata affittata proprio per organizzare la festa estranea ai fatti la proprietà dell'immobile. Con i 523 nuovi casi età media 45 anni sono saliti a 139.141 i contagi in Toscana da inizio pandemia. Purtroppo si registrano oggi altri 15 decessi, 8 uomini e 7 donne con un'età media di 77,5 anni. Insieme al tasso di positività pari oggi al 6,6% sono risaliti anche i ricoveri. 45 in più rispetto al report di ieri con un totale di 803 pazienti di cui 112 in terapia intensiva quindi 4 in più. Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del giorno del ricordo per le vittime italiane delle foibe in Istria e Dalmazia il 10 febbraio. L'appuntamento è per le 12.30 in sala consigliare di Palazzo Panciatichi. Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana celebrata appunto il 10 febbraio di ogni anno per commemorare i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. La seduta si svolgerà in via telematica quindi in assenza di pubblico per l'attuale emergenza sanitaria Covid. La cerimonia potrà essere seguita sul canale YouTube sulla pagina Facebook in streaming dal sito web. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana molto nuvoloso con piogge sparse nella notte e nelle prime ore del mattino schiarite nel pomeriggio poi però peggiora nuovamente in serata. I venti sono forti per quanto riguarda la costa e moderati invece nell'interno i mari molto mossi e le temperature stazionarie. Era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguiti arrivederci.